L'elicottero di Abitab! L'elicottero del grande divo! Abitab! Abitab Bacchan! Il River to River, il festival della 50 giorni in programma fino a giovedì 13 dicembre, che porta sul grande schermo dell'Odeon il meglio della cinematografia indiana, ha avuto un ospite veramente eccezionale, Amitab Bacchan. Classe 1942, figlio del celebre poeta indie Arivash Rai Bacchan, Amitab è senza ombra di dubbio l'attore più importante del cinema indiano, non solo per il numero di film, ben 180, che ha interpretato, ma anche per la sua attività di produttore e il suo impegno civile e politico. In patria, idolatrato per le sue innumerevoli interpretazioni di film di punta della principale industria cinematografica al mondo, Bollywood, dove è stato il bello, l'eroe, il buono, il cattivo e il seduttore. Noi l'abbiamo incontrato il giorno dell'inaugurazione del festival. Chi è in realtà Amitab Bacchan? Non lo so. Non lo so, non lo so. Io ho fatto molti ruoli, ma quello è nel mondo del cinema, un mondo immaginario dove si inventano le cose. E mi domando perché molte persone vogliono sapere chi sia io in realtà, ma io in realtà voglio tenerlo per me stesso. Bollywood è una grandissima macchina dei sogni, diciamo, in cui lei gioca un ruolo importante. Che simbolo pensa di essere per gli indiani? Come ho detto anche prima nella conferenza stampa, in questi film c'è sempre un messaggio di speranza, i sogni si realizzano, è un po' questo che viene lanciato come messaggio. E questi film sono visti principalmente come un momento di evasione, di divertimento, dove si trova appunto in tre ore e si riesce a trovare un sacco di emozioni, di poesia, di gioia e soprattutto di sogni che si coronano. Quindi è un po' questo quello che si rappresenta. È un po' come il cibo indiano, che è molto vario, c'è tanta varietà. E quindi questo tipo di divertimento è estremamente vario e variegato, come la cucina indiana. In India c'è appunto questa forte industria cinematografica, da una parte una grande tradizione del cinema d'autore, dall'altra questo film, cinema di evasione Bollywood. Questa distanza si sta accorciando tra i tuoi tipi di cinema e dove va il cinema indiano oggi? Allora innanzitutto va detto che in India esistono molte industrie cinematografica in diversi stati e dove i film vengono fatti in diverse lingue, almeno dieci. Quindi già questo rappresenta una grande varietà. E proprio per quanto riguarda questi due filoni, adesso diciamo che c'è un particolare apprezzamento con il fatto che anche la società è più istruita, più educata, più colta, c'è un particolare apprezzamento per il cinema d'autore. Soprattutto per quanto riguarda le giovani generazioni, penso che questa distanza tra i due filoni si vada restringendo e quindi c'è interesse per entrambi. Quale film gli piacerebbe ancora girare e se girerebbe un film a Firenze? Assolutamente sì, adorerei fare un film a Firenze e spero anzi che qualcuno dei registi con i quali lavoro senta queste interviste e magari ne prenda spunto. E per quanto riguarda un film che vorrei fare, per me è impossibile dirlo. Vorrei piuttosto raccogliere una sfida, che mi venga lanciata un'idea e una sfida e sarei lieto di accoglierla. Grazie, grazie a questa bellissima città. Come attore non avrei mai neppure sognato di essere invitato qui in questo ruolo e quindi ringrazio la città per questo grandissimo onore che mi ha voluto dare. Grazie. Tra i film presentati a River to River con Bachan, Black, libero adattamento dell'autobiografia di Helen Keller, The Story of My Life, che racconta la storia di una ragazza sordoceca che impara a vivere una vita normale grazie all'aiuto del suo insegnante. Senza dubbio una delle migliori interpretazioni del divo indiano.